44 locali commerciali controllati, 5 sanzionati e centinaia di persone segnalate. Comincia a entrare nel vivo il piano del comune contro la movida violenta a Napoli. Nel fine settimana tutte le forze di polizia, municipale, carabinieri e questura sono state impegnate nelle strade per i controlli, dai decumani a Chiaia, dal vomero a Coroio. Passate al setaccio i locali con particolare attenzione al rispetto delle nuove regole sulla vendita di alcolici e musica ad alto volume. Al centro storico due baretti finiscono nei guai per alcol venduto ai minori di 16 anni. Sul posto gli agenti del reparto tutela minori che hanno denunciato i titolari e l'autorità giudiziaria anche per oltraggio e minacce nei confronti degli agenti. I due locali sono stati segnalati anche alla questura di Napoli per eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività. E questa mattina consiglio comunale monotematico a Napoli proprio sulla movida e sul piano approntato dall'assessorato alla sicurezza insieme alla prefettura per limitare i danni, in particolare per quanto riguarda la diffusione di alcol tra i minori. Questo è un aspetto molto critico di cui anche con il prefetto stiamo discutendo anche a livello nazionale e questo è uno degli argomenti su cui ci concentreremo nelle prossime settimane. Con il regolamento interverremo principalmente sull'orario di mesi, sull'eliminazione degli orari di vendita degli alcolici e soprattutto anche sul tema della musica, del rumore, della musica all'esterno. Questi saranno i due elementi regolatori che ci saranno alla fine nel regolamento che si metterà a punto.